Buongiorno, oggi andremo a creare la banana Keglevic. Trattasi di una crema allo spirito santo. Ingredienti. 300 grammi di banane, 250 alcol puro, 250 vodka Keglevic, 200 latte, 100 panna, un po' di vanillina, zucchero a piacere dai 200 grammi ai 500. Mettiamo le nostre banane, ecco qua, sbucciate e tagliate, così. Ecco, abbiamo riempito il barattolo, in alcol, in vodka, Keglevic, e in alcol. Quindi, le terremo una quindicina di giorni, agitando il barattolo una volta al dì. Passato questo periodo, andremo a filtrare le nostre banane, versandole in un pentolino, così, con la panna, il latte, la nostra bananina, e lo zucchero. A piacere. Adesso facciamo sobollire le nostre bananine, per 10 minuti, in un quarto d'ora, a fuoco basso. Dopo averle fatte raffreddare, le metteremo nel nostro frullino, così, insieme all'alcol di prima. e andremo a frullare. È giunto il momento di imbottigliare, per poi ricorre nel frigo. Ecco qua, gustosissima e conforme ai canoni nutrizionali attuali, poiché interamente vegetariana. Buon dessert a tutti, ciao!